Attività gratuite sportive ed extrasportive e sociali. Spassi civici di comunità è un'iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., la Società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Il progetto Ubuntu è patrocinato dal Comune di Napoli, dalla Quarta Municipalità e dal Comune di Pollena Trocchia. E si rivolge ai giovani dai 14 ai 34 anni con due sedi operative, lo stadio Albricci a Napoli e il centro sportivo di Via Matilde Serau a Cercola. È un importantissimo progetto del Dipartimento Vari Opportunità del Ministero dello Sport in collaborazione con Sport e Salute e realizza appieno davvero quello che noi crediamo sia lo strumento principale per realizzare sport. C'è lo sport come veicolo di inclusione, il progetto so che si chiama Ubuntu, che significa nella lingua saariana insieme, che solo insieme si possono raggiungere gli obiettivi, si possono superare le difficoltà e quindi vedremo per un anno un progetto finanziato dal Governo nel senso di dare un'offerta sportiva, formativa, culturale ai ragazzi dai 14 ai 34 anni. Quindi davvero un bellissimo progetto, siamo molto felici di essere partner di questo progetto. Grazie. Grazie.